ciao a tutti raga allora oggi volevo farvi un uomo di risparmio casa ho acquistato il negozio e volevo far vedere tutti i prodotti detersivi per la casa che ho comprato allora iniziamo da cose che mi servivano ho preso in primis però vi faccio vedere le giuste eccola questa è la prima risparmio casa pesano tanto e poi c'è anche la seconda comunque sempre uguale allora per prima cosa ho preso ho ripreso perché lo conosco ormai ed è molto valido lo consiglio tanto raga perché smacchia e igienizza sono 70 lavaggi quindi fatevi il conto dura tantissimo e un etersivo igienizzante come ho già detto smacchia e igienizza e i colorati e anche i bianchi comunque rispetto ai colori e professional e l'ace guardate io ci trovo tantissimo mi è durato tantissimo raga e l'ave smacchia da dio davvero lo consiglio questo qua ha pagato 6 euro e 99 poi ho acquistato dell'olino bianco la candeggina delicata efficace sulle macchie già 30 gradi dell'olino bianco si elimina anche le macchie difficili rispetto a colori tessuti ed è due c2 2 mila millimetri due litri qui questa pagata adesso non mi ricordo però ho uno scontrino allora cosa pagata 2 euro 79 poi 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 ho preso bagno schiuma della borotalco l'originale raga io e mio marito io e davide ne andiamo matti veramente ci troviamo benissimo con lui lo conosciamo da parecchio tempo e ha un odore inebriante di borotalco ma è buonissimo da 500 ml qui 500 ml e questo pagato allora un euro e 99 raga poi davide voluto prendere il listerine anche lo uso però non lo so io sono un po più delicata di lui perché questo brucia tantissimo raga lo so vuol dire che sta togliendo i batteri tutte quelle cose brutte lì però difende pure i denti del gingivo lo so però io a volte non lo reggo raga però a volte resisto perché so che comunque è ottimo il listerine e fa il suo lavoro benissimo e poi ti senti dopo aver lavato i denti con il dentifricio e passi questo ti senti dopo puliti al mille per cento non al cento per cento al mille per cento comunque ed è questo da da 600 mm questo pagato 2 euro e 50 è un'offerta poi raga poi per la prima volta io ho preso questo bagno schiuma muschio bianco l'odore mi ha colpito tantissimo perché è molto non lo so vi entra nel mio naso è buonissimo si chiama luxuri e da e muschio bianco tonificante guardate dice tonificante e da 750 ml il prezzo è di 99 centesimi raga è un bagaglio di 700 ml 750 ml 99 centesimi me lo ricordo perché mi ha colpito anche il prezzo poi ho preso sempre questi soliti bagagli qua del sapone mani e viso della muschio muschio aloe con il suo erogatore da sapone liquido da sapone per le mani da un litro raga date e niente questo raga pure per il viso guarda c'è scritto viso mani e viso anche se io quando lo prendo lo uso solamente per le mani di quella verità questo è il formato convenienza raga da un litro come già ho detto comunque costava 99 centesimi è buonissimo raga fidatevi c'era anche violetta e arganna però mi ha colpito come sempre muschio bianco perché lo conosco e come profumazione lo adoro tanto poi ho preso raga allora di solito io ho premetto che io adoro il pantenne da quando sono nata che uso il pantenne in pratica e però questa volta ma colpito questo qua allora dico la verità questa volta diciamo che ho visto la convenienza perché il pantenne ce l'aveva risparmio casa ce l'aveva a 5 99 però 600 ml questo raga 5 99 litro guardate poi diciamo anche la novità e la novità per me perché non l'ho mai provato e messi che mi trovo bene non riprenderò ancora sicuramente e della creative studio shampoo lisciante per capelli screspe difficili da lasciare cheratina olio di avocado sublimatore liscio anche se io ho i capelli ondulati e non adoro tantissimo il liscio però raga sono molto difficili da da pettinare mi sento sempre un dolore cane davvero e se questo mi aiuta ben venga anche il liscio comunque poi dopo partiamo col balzer poi ho preso raga questa sera micro del naso sono ficca nata allora mille luci la smalto ad immersione per unghie delicato con vitamina e già provato vi dico che comunque buono per il prezzo per 1 e 99 raga se lo prendete dal eco i discount quelle cose lì vi ammazzano vi ammazzano questo un prezzone la prima busta è finita passiamo alla seconda spostiamo un po di roba allora la seconda è qui e ve la faccio vedere subito si è tolta la carta comunque queste sono ti faccio vedere cosa qua che ce l'ho sono delle coppe candy per il gelato o qualunque cosa vogliate metterci dentro comunque è così la confezione e senza la confezione così molto elegante bellissima elegantissima bellissima fa anche rima questa adesso le tue le tue diamo così dopo le metto a lavare allora questa azzurra queste verde poi raga ne ho prese altre due sapendo che azzurra mi copia tantissimo le ho preso una colorazione uguale alla mia identica raga perché fa finire che poi dopo dice no mamma la tua è più bella allora voglio la tua allora io l'ho presa uguale adesso ve la faccio vedere subito ed eccoli qua sul violetto lilla sono bellissime raga guardate che belle dentro sono bianche sono fatte con queste onde non sono rotonde o non hanno una forma precisa guardate che belle sono molto belle qua sotto sono quadrate guardate così e queste qua raga pagate allora costavano 1 e 99 ma con il 60 allora c'era lo sconto e gli ho pagate 1 e 39 me lo ricordo me lo ricordo 1 e 39 continuiamo allora poi ho preso essendo fissata del ruota come sapete benissimo ormai è una croce per me è un'ossessione ho preso questo cestino questo cestino che non so ancora perché l'ho preso raga non so ancora perché l'ho preso non so 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 cosa ci metterò dentro non me lo chiedete perché non lo so niente raga all'improvviso so vedo sta cosa in casa che non mi dà fastidio ce la metto dentro forse lo metterò in bagno non lo so in cucina non lo so vedremo raga veramente non lo so datemi un'idea cosa potrei metterci all'interno dove potrei posizionarle in quale stanza non lo so in cucina in bagno ditemi un po ditemi voi datemi qualche suggerimento datemi un'idea non lo so comunque questo pagato allora allora mi sembra un euro vediamo allora o meno coppetta 1,99 raga 1,99 poi continuando ho preso anche un altro shampoo uguale a questo però di una fragranza diversa questo è riparatore per capelli sfibrati ed indeboliti i miei quindi l'ho preso apposta per me questo e raga non hanno una profumazione precisa non hanno una profumazione precisa comunque dice all'olio di marula vitamina e e pantenolo nutre e ripara il capello vedremo raga se è buono raga io sono sempre da convenienza a casa li prendo subito perché raga io cioè come potete vedere sto perdendo i capelli prendo bio bioscaline però raga è da poco è da un 15 giorni che prendo la ehm ehm le pastiglie di bioscaline vedremo speriamo che mi aiutino perché io non voglio rimanere calda raga guardate si vede un pochino qua un po' di spazio mi dispiace perché quando li leggo si vede un pochino il difetto qui eh dicono che lo stress forse sarà vero raga sono un po' stressata voi capirete perché allora poi chiudendo questo discorso non lo apriamo per favore che ci facciamo del male ho preso questo ehm dentifricio rinforza i denti rinfresca l'alito comunque io lo conosco col date guardate e protection cares più 33% gratis new look e e rinfresca anche l'alito raga questo comunque ha pagato una cavolata 59 centesimi io pensavo 99 invece 59 beh meglio no? e niente poi comunque come l'altro ho preso anche questa profumazione come questo è lo stesso però ho preso anche questa profumazione qui questa è la Luxury Bagnoschiuma Bat Fum Mono e Narciso Monoi si dice Monoi raga non lo so come si pronunciamo noi e vabbè Narciso si Narciso è avvolgente qua dice Made in Italy ho il cestino davanti Made in Italy non so raga sono sommersa dai detersivi dai prodotti per la casa Made in Italy 750 ml come l'altro allora poi non cadere stai qui allora poi ho preso una cosa che mi piace tantissimo raga perché la conosco fabuloso questo l'ammorbidente il mio ideale il mio ammorbidente ideale e alla vaniglia e orchidea è un profumo buonissimo e lascia un profumo sui vestiti una roba azzeschissima veramente buonissimi io l'adoro l'adoro capi più morbidi più a lungo maxi formato 2 litri 2 più 1 litri foda fabuloso morbidente 3 litri vaniglia orchidea in pratica questi sono 40 lavaggi andata fabuloso buonissimo io da quando l'ho provato la prima volta è stato un paio d'anni fa non me ne sono più riuscita a liberare cioè se io sono innamorata di questo ammorbidente è bellissimo e mi piace proprio la profumazione che lascia anche sui vestiti appena lavati bellissimo buonissimo e profuma da morire provatelo questo pagato fabuloso 2,20 euro era in offerta per 3 litri in offerta per 3 litri raga in offerta 2,20 euro conviene tantissimo poi per ultima cosa che vi faccio rivedere come questo qua che ne ho presi due guardate sempre 1,99 euro sono leva smalta di immersione da con vitamina E delicato deep nail polish remover vitamina E lo consiglio perché comunque lo uso sempre ogni volta che mi trovo ad andare da convenienza a casa lo prendo perché comunque è buono ed economico raga il video finisce qui se vi è piaciuto lasciate un like se non siete iscritti iscritti iscrivetevi al canale e se vi piacerebbe sempre essere aggiornati sui miei video attivate la campanella raga ci vediamo prossimamente anche per altri video mi raccomando seguitemi e vi mando un bacione grosso e un mega abbraccio ciao